Là ci sta una quantità di giganti obrobriosa, che tipo è un po' da vergognarsi la quantità di giganti che hanno dovuto mettere là. Che paura! Da dove sono arrivati? Ma sono saltati da... sono comparsi da nulla, veramente io... cioè per un attimo ho pensato che fossero gettati dall'assù, ma è assurdo. Adesso non dicevo voglio fare la sala principale, ho già fallito, ho già fallito la missione, voglio già deviare. Lei chi è? Basta! Voglio sapere come si usano! Cioè so che serve la campana, ma non l'ho trovata. Cioè andrò... qua. Tu direi, ma no! La chiave è da un'altra parte! Wait. Ma che cazzo? Ok. Che cazzo? Non l'avevo visto, c'era tre mani! Campanevo Casperidi! Sì! C'è la quarta, sì c'è pure la quarta! È due per due! Ben 10! È Ben 10 lei! Stavo un braccialetto alieno a renderlo così! Non credo che ci saranno ancora incontri. Ma tutto il stesso. Prendi bene la terra tra l'interno. C'è la quarta, mi chiedo, prima la tarnia di una basina con i due fangeli. È molto più vicina che nella realtà. Decisamente più vicina. Invece lui, Babbo Natale, sta qua con la sua canna da pesca con un braccio. Normalissimo. E... Un tamburo, sembra, quel cane! Non proprio! Vediamo se posso potenziare l'arma. No, è più tre. Più due. Sicuramente ho trovato un'altra arma, però serve troppa... Serve troppa forza. Se io faccio così... Mi usa tantissimo mana. Guardi quanti è insufficiente. Mi prendi bene il giro! Rifletti e venite a usarlo. Oddio, ma è Farros, praticamente. Mi servono due, una per statua. Ok, let's go! Ora siamo al castello di Godric Grifondoro. C'è uno... Un cimitero di Keyblade. E dei morti, quindi passerò a lato in modo sneaky. Ah, vabbè, non mi posso sneaky, no. Grazie, sì. È Godric Grifondoro, lui. Ok, la boss fight qua non mi aspettavo, sinceramente. Vedevo dei morti, avevo paura, ma... No, ok, lui non è Godric Grifondoro. Margit l'implagabile. Prima boss fight vera di dramma del gioco. Posso evocare dei tizi? No, non mi ha attaccato a me, ma l'hai detto. Almeno tu lo sai, c'è un botto di vita, eh. Oh, no! Pokerz. Ok. Ma che cazzo è successo? No, mi ha interrotto! Che culo! Mattio Cristo! Ancora gli tirano la merda! No, ma è morto un tizio! Mannaggia, era fattibile! Era fattibile! Cazzo! No! Un scingrino con una sega! Cazzo no! No! Ancora questo un attimo di pausa... E vabbè ma che palle! Va a fare in pezzo! Mamma mia! Ecco! L'implacabile! Arrivederci! Ok, cosa abbiamo imparato con questa boss fight? Le vocazioni sono fighe! Il mio dono è rotto! Terza cosa! I contrattacchi sono incredibili! Sembra un prigioniero di Hollow Knight! E' un superiore! 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 Un pochi deiily! E' un superiore! Il suo amico! E' giusto! E' un superiore! Una bella chiesona, dove ci sono dei morti, là. Diciamo che... Il blocco alle attacchi non c'è sicuramente, e credo ci sia una boss fight. La guardiana del fuoco. Alla stessa doppiettrice, che paura! Figlia della mignola. Cosa? Che cosa? Cosa? L'hanno fatto sul serio? Rule 34 in game! Guardalo! Sei... Molto... 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 Sei cos'è che danno a letto? Gli sceneri? Sembra si chiami Aurelia. Va bene, Aurelia. Dovrei poi la chiameremo così. Quindi servono sempre due. No? Eh ma dai, ma qua mi prendete per il giro. Mi prendete per il giro. Saetta runica. Però al momento l'anello è necessario frantumato. Quello che voglio fare adesso è battere questo tizio. Oh cazzo. Stavo a morirci. Ho vinto! Evviva! La barza dorata! Non vedo più posta di sangue. Una grossa area vuota. È un'invasione. La sua arma è quella che passa lo scudo. Vabbè, lo sapevo che c'è pochissimo danno. Però mi sembra anche eccessivo. Anche ghiaccio ovviamente. Leggente Pokémon Arceus. Che palle! Non si interrompe questo. Ma dai! Sono uno scemo. Mi sono gettato, lo so. Cargo amico. Di questi che ti fanno perdere tempo. Guarda, non si può, non si può, non si può. Allora ci sta... Ci sta un microframe in cui te puoi schivare la seconda volta. Ma devi premere cerchio in quel microframe perché se lo fai troppo prima non conta, se lo fai troppo tardi ti prendi danno. No, maledetto. Non sfrutto mai l'attacco in salto. Non sono abituato. Non si può, non si può, non si può. Non l'ha fatto. Kodo! L'attacco in salto è la risposta! L'attacco in salto è la risposta! Boss fight. Bessia umana di Varum Azula. Bessia umana di Varum Azula. Stamina, 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 ne ha, eh, eh, waka waka, eh, eh, come insegna once. No, no, no. Oh, madonna, che range. Ho vinto. Ah! Mamma mia il riposto, quanto anno gli fa? Vinto. Grazie a Sartoria. Ma che drop è? Ma dai! Siamo sull'isola! C'è proprio un drago, c'è. È solo di pietra? E basta? No! Devo ricordarmi questa zona. Nel caso trovasse degli indizi al riguardo ci devo tornare per fare qualcosa. Boss. Guardia sepolcare duellante. Oddio. Posso evocare, in realtà? Ops. Vabbè, ma sono distruttivi questi tizi. È la easy mode, praticamente. Eh! I messaggi mi hanno exportato qua. Aspetta. Questo dungeon non sarà così facile come gli altri, eh. Questo è più infognato. Questa unità è dura. C'è un malo, lo fai loro. Colin Quartiano. Questa unità è dura. Questa unità è dura. Questa unità è dura. Non è difficile. Non è difficile. I can do this. adesso posso fargli riposto ma ho mai perso colpiscilo ok colin guardiano amulito di la danzatrice blu secondo la leggenda la ballina blu era una fata che donò un'agile spada a un guerriero non vedente arma in pugno lo spadaccino scacciò un'antica divinità incarnazione della marcia scienza scesa la marcia scienza sembra essere il nemico delle due dita